Sì, oggi ci siamo ritrovati su invito del sindaco Toto Martello, del sindaco di Lampedusa, qui a Lampedusa per iniziare il nuovo percorso della Carta di Teramo. La scelta di Lampedusa, quindi ovviamente è una scelta importante, sia simbolica che di contenuti. Quindi portare la Carta di Teramo alla porta d'Europa è un elemento fondamentale. Però la giornata di oggi è servita anche per tornare a ragionare sugli obiettivi della Carta di Teramo e come allargarla. Quindi oltre agli interventi appunto del sindaco di Teramo, del sindaco di Lampedusa, c'è stato un intervento molto importante del professor Tira, il delegato della conferenza dei rettori che ha inserito la Carta di Teramo tra gli obiettivi principali delle strategie di internazionalizzazione della Cruy. Quindi un evento di riflessione, di preparazione per la conferenza dei rettori, la terza conferenza dei rettori africani che si terrà nell'ambito del quarto forum internazionale del Gran Sasso il 2 ottobre a Teramo. Quindi da Lampedusa il ritorno a Teramo, chissà, per poi tornare di nuovo a Lampedusa.